Buongiorno, buongiorno ai nostri amici social, una nuova puntata di SOS Corona Virus, la regione in ripartenza. Oggi parleremo di ordinanze, l'ordinanza numero 57 che è datata 6 maggio e questa ordinanza prevede e consente la caccia di selezione nel rispetto di quanto già previsto nella delibera di giunta numero 120 del 4 marzo, purché espletata al massimo una volta al giorno con rientro nella propria abitazione e nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19. La stessa ordinanza consente anche per tale attività lo spostamento solo in ambito provinciale. È consentita l'attività di raccolta di funghi, tartufi ed erbe e frutti spontanei nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione della flora e delle misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio e comunque alle seguenti condizioni, garantendo il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi dell'attività. E lo spostamento è consentito solo in ambito provinciale e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti. L'attività di raccolta dei funghi e dei tartufi è consentita ai possessori di tesserino in regola con i pagamenti per l'annualità in corso e deve avvenire nel rispetto dei periodi e delle disposizioni previste dalle norme di riferimento che sono indicate. È consentito agli ambiti territoriali di caccia interessati dai distretti di gestione della specie coturnice, alectoris greca, individuati dalla regione, effettuare nel mese di maggio i conteggi primaverili al canto e in estate la stima del successo riproduttivo con l'ausilio dei cani della ferma. I censimenti devono essere effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19 da cacciatori residenti in Abruzzo abilitati dall'ATC interessato, dall'ambito territoriale di caccia interessato. È consentito per trattività lo spostamento solo in ambito provinciale, purché al massimo una volta al giorno quando rientro nella propria abitazione. Il testo integrale dell'ordinanza è consultabile al link che vedete in grafica. È tutto per oggi, alla prossima puntata. Un caro saluto.